Un nano in mezzo giganti Ci sono queste Capodchium Comunque queste cuffie Me le ricorderò per le Per il fatto che si formavano le trecce Cioè non andatevi conto stavano messe tanto bene le cuffie Ma sono fatte le trecce Andiamo da parrucchire e facciamo una bella pettinatura Cioè proprio non so cuffie So trecce Salve a tutti ragazzi siamo con un altro video di Yandere Simulator O Yandere Simulator Se vogliamo dirlo per bene No dai Non mi dire nuvoloso Comunque mi ero già organizzato Una giornata particolare Cioè io voglio ci cercare Oloci Sì 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 Ma ci sono scarpe che volano Mio dio Senpai dove sei? No Un nano in mezzo ai giganti Letteralmente Beh in realtà sono pure io Un Una nana No io sono Eren No aspetta Aspettate io sono Mikasa Andiamo Mikasa Dobbiamo fare un macello con que- Oh basta camminare Dobbiamo trovare assolutamente un'arma Perché voglio fare una cosa Anzi no saliamo sul tetto Prendiamo il coltello del rituale Questa che è l'unica arma Porca miseria non ci capisco neanche con tutti sti piedi E' questa con la chitarra C'è un gi- Ok i giganti hanno imparato a suonare Chi è questa? Mio dio Eh sta facendo qualcosa di sbagliato eh Stanno suonando loro la musica o sbaglio? Ma io non posso fare niente dai Poi ce l'ho il coltello vero? Ma è un peccato se non posso Va vai i bulli Ma va qua No mio dio Quelli che devono andare a fare piscina Come la fanno? Li scienziati madonna Fanno il botto No raga ma non mi fa fare niente Non mi fa coltellare Questa che è legge Cosa leggi? Oh Con sta matita grossa Oh Attenzione Mi accoltella questa E' questa? Da dove viene? Aspettate forse è questa che è più bassa Non aspetti Signorina Signorina Oh questa sta vedendo il cellulare Cosa vedi? Sarà il profilo di Instagram No è Facebook Vabbè quella Quella sta seduta Madonna Chi è questo? Oh con sta mano Chi è che ha chiuso la porta? Madonna Quello col pennello Oh hai rotto Mio dio ma come stanno? Vabbè Inquietante Ti vuoi togliere con quel pennello? Porca miseria Quanto fire ste ragazze Questi giganti No vabbè Ma quelli No comunque un peccato Io pensavo seriamente che potevo uccidere qualcuno Dai che sfiga Ma va qua sento musica Eh però Non dico che dovete andare a tempo Ma almeno che fate la stessa musica Questa che pitta Penso che continuano a giocare Smettila Sta capo da chiuma Mottila a coltello Tu sei fortunato che non ti possa coltellare Alla grande Quella che fanno? Non si fanno ste cose su YouTube eh? YouTube non vuole di certo questo Chi sono queste? Oh tutte ste mani addosso Quella Quella dove sta seduta Non sono passato in mezzo a un telefono Complimenti per l'ottima seduta eh? Posso dirtelo? Levatevi E levati Oh mio dio Quello lì Si mettetevi tutti insieme Non lo so Povero lui Che si trova sotto un sedere di una Ah quella Cosa porta? Ma cosa porti tu? E se io Vabbè a parte i sederi Se io uscissi Il coltello Alla ragazza Del consiglio studentesco Che succede? Questa sa Questo sta sempre A camminare così Inutile Si apre da solo Intanto si apre Proprio Va a sbattere Contro la faccia mia BOM Una scuola piena di giganti E' un po' troppo affollata come scuola eh? Posso dirlo? Vediamo dove sta la radio Ma una così piccola radio Aspettate Ma quindi posso interagire? Se in questo modo posso interagire? Allo stesso modo se io prendessi un coltello Ok Oh giovane No Aiuto Che succede? No Che succede? Non capisco niente Non capisco niente No Mi sta schiacciando Mi stanno ammazzando Comunque eh? Vorrei dirvelo No mi hanno pestato Sti maledetti Aia Scusi adesso provo a farmi una foto Come me la fa? Ah bella Pestata a morte Maledetti bulli Un giorno Mi vendicherò A cavalluccio vanno Che fanno? Ok E il corpo? L'acce del sangue che vola Si ammazza tutti Tanto non ci scopriranno mai Anzi la polizia dirà Abbiamo fatto bene Abbiamo salvato Oh mio dio Cos'è quella ruba? Tutto ciò non l'ho capito Ok ci sono delle persone con torte Non con delle torte Con torte nel senso che Sono tutte Vabbè raga I giganti sono stati sconfitti Ora andiamoci a fare una doccia Questo era Attack on Titan In Yandere Simulator Con questa puntata Possiamo concluderla qui Sono stato anche Pestato Da quei maledetti bulli Io spero che questa puntata Vi sia piaciuta Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non è ancora fatto Noi ci vediamo con la prossima puntata Di Yandere Simulator Non vedo l'ora Anche perché Quello che vorrò fare Sarà proprio Quello di Visto che sono riuscito A trovare in modo Per aprire La casa del giardiniere Il prossimo obiettivo Per la prossima puntata Prendere le chiavi Per poter prendere Insomma Gli attrezzi del giardiniere Buonanotte ragazzi O quello che è Stavolta se la sono passata bene Perché erano giganti Non è che volo come Aeren F intanto Partice 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 Sous-titrage ST' 501